Un piano di investimenti di ANAS da oltre 45 milioni di euro per la messa in sicurezza alla modernamento della Statale 45 e una nuova norma che destina risorse anche alle strade provinciali danneggiate da alluvioni, in particolare in Valnure. Dopo anni di annunci e andati delusi, ecco la notizia che tutto il territorio attendeva. Con questi soldi si metterà in sicurezza, partendo dal comune di Corte Brunatella, fino al confine di Ottone con la Liguria. Vuol dire mettere barriere verticali, allargare la strada, addirittura ci sono pezzi di strada 45 che non sono a norma, non hanno la sufficiente larghezza per ospitarle due careggiate. Qui è un progetto ANAS già fatto, naturalmente è assolutamente cantierabile. Questo vuol dire anche, a parte di mettere in sicurezza, pensare allo sviluppo della valle. Senza una strada sicura, con la possibilità forse di qualche pendolaro, di qualcuno che possa ritornare, possa rivivere in valle sfruttando il fatto che abbia una strada sicura, un attimino più veloce per raggiungere il posto di lavoro. L'annuncio è arrivato dai rappresentanti del PD, sottosegretario all'economia Paola De Micheli, che precisa come entrambi i provvedimenti siano stati inseriti nella legge di stabilità, in fase di approvazione finale. Il presidente dell'Unione dei Comuni della Valtrebbia, Lodovico Albasi, e dai consiglieri regionali, Katia Tarasconi e Gianluigi Molinari, e dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. A febbraio saranno il ministro per le infrastrutture ai trasporti Graziano Del Rio e il presidente e amministratore delegato di ANAS Gianni Armani a presentare nel dettaglio i lavori. Io ho chiesto al ministro Del Rio e al presidente e amministratore delegato di ANAS di venire insieme a presentare i progetti che verranno finanziati nel corso del 2016 a febbraio, perché a febbraio sarà il momento in cui queste risorse saranno allocate nell'aggiornamento del contratto di manutenzione straordinaria della Statale 45. Quanto dureranno questi lavori? La prima tranche, quella da 15 milioni e 8, sarà sicuramente finanziata nel corso del 2016 e quindi durerà penso fino al 2017, mentre nel 2016 ci sarà tutta la progettazione della seconda tranche Rivergaro-Cernusca che varrà invece molto di più, quasi 35 milioni ovviamente prima di fare le gare, quella durerà ovviamente molto di più e avrà un corso 2017-2018. Il primo stralcio di lavori da 6 milioni interesserà il tratto di strada statale nel comune di Marsaglia con l'intervento sul ponte messo a dura prova dall'alluvione. Verrà messa in sicurezza la strada che attraversa la Val Trebbia da Rivergaro fino al confine Ligure, di cui 15,8 milioni certi e già cantierabili per il tratto Corte-Brugnatella-Gorreto, più 3 milioni e mezzo per la progettazione dei lavori del tratto Rivergaro-Cernusca, con la possibilità concreta, se il territorio riuscirà a lavorare insieme, di avere accesso ad altri 30 milioni.